ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale siamo qui di nuovo oggi ovviamente con giurassic world il gioco e andiamo subito a fare questo livello di battaglia 19 insieme ragazzi allora direi di passare subito facendo questo qua e poi andando a prendere due anfibi così da riuscire a battere si spera questo tirannosauro perfetto vediamo un po come va non la vedo semplice però ci si prova insieme diciamo che con questo primo dinosauro vado a fare tutto quello che è riserva e con gli altri due andrò ad attaccarlo quindi speriamo vada bene vediamo un po lui cosa fa si è già difeso ok mettiamo tre riserve ragazzi perfetto lui si difende di uno e mi attaccherà di due no ok mi attacca di due mi fa già fuori va bene così ok si è difeso di uno e dovrà avere tre più altri tre io vado così ragazzi lo attacco immediatamente vediamo subito come va si difende solamente di uno gli faccio 5 non muore penso 9 18 ma gli ho fatto un bel po di danno e vediamo lui che cosa combina adesso si è difeso di tre perfetto io farei io andrei subito di riserva così ragazzi tanto ho ancora un altro anfibio dopo 4 2 6 mi attacca di tre quindi si è difeso solamente di tre ok vediamo un po è io adesso ho lui con 4 più 3 giusto 8 7 6 5 comunque muore ragazzi faccio 2040 con tre di parata sua comunque muore e anche tirannosauro incredibile ragazzi al primo tentativo morto anche lui ottimo così si dovrebbe andare a sbloccare se non erro diamo un po vittoria perfetto un tire sconfitto in battaglia quindi obiettivo sbloccato 40 di dna e missione ok sbloccato tirannosauro andiamo subito a farlo ragazzi schiudi si si attiviamo immediatamente ed è pronto fra 65 ore intanto raccogliamo anche questo qui che avevo lasciato un po in disparte ottimo lo stavo preparando appunto per questa battaglia qua fine missione e andiamo a livello 21 ragazzi no ok non è a livello 21 e aspettami arrivo subito ti ho detto di restare con zara mi ero rotto di aspettare ora dove sei 16 58 vicino ci vediamo alla passeggiata della preistoria ok episodio 11 tra le fiamme perfetto due missioni andiamo a vedere la prima che cosa ci dice hai visto gray o zack stanno girando per il parco da più di due ore non li ho visti dovevi badare a loro perfetto non puoi sguinzagliare per il parco da soli ok non dare la colpa a me ok questa cosa la conferenza stampa mi sta facendo perdere la testa io non sono la babysitter senti nemmeno io impazzisco per i bambini ma i responsabili siamo noi quindi bisogna raccogliere 60.000 monete da dinosauri e possedere più di 10 carnivori e io sono a 8 altra missione dottor v ora ci saranno tre uffici pieni zeppi di serve in rete con il mainframe della compagnia il vostro cloud personale stapperemo lo champagne ok comincia dall'inizio proprio dall'inizio inizio magari no cosa dite non è quello che avevo in mente ma vai pure avanti raccogli 50.000 unità di cibo questo magari lo facciamo qua vediamo quanto sono l'avevo appena preso peccato livello di battaglia 20 sono un anchilosauro a livello 14 un altro tirannosauro a livello 6 è un asuto cerato poi a livello 26 ovviamente anche questo video qui nel prossimo lo andremo a fare insieme questa battaglia manca pochissimo a livello 21 ragazzi e voglio farvi vedere questi nuovi due edifici che uno sono la sezione di telecomunicazioni e vabbè e questo qua magari l'avete già visto che è l'hotel triplice corona molto belli esteticamente costano un pochettino però diciamo che danno danno loro perché all'interno del parco poi volevo farvi vedere il nasuto ceratopo portata a livello 20 ragazzi è molto bello guardate qua che roba dinosauro molto raro questo perfetto poi quello l'avete già visto questo qui ragazzi il carnotauro anche questo a livello 20 bel carnivoro sempre raro cos'altro ho messo che non avete ancora visto allora quello l'avete visto forse questo qua ragazzi è un dinosauro rarissimo eh l'ho portato già a livello 10 poi piano piano andrò a evolverlo solo che ci vuole un bel po di tempo per questo molto bello non l'ho ancora usato in battaglia però secondo me ne vale la pena nelle prossime utilizzarlo e poi forse anche questo qua no l'avete già visto questo basta direi sì il resto l'avete già visto ragazzi forse questo qua non l'avete visto questo qua anche un dinosauro rarissimo si svolacca poi a livello 42 eccolo qui per ora a livello 10 un erbivoro comunque vediamo le sue caratteristiche non è male non è male ragazzi questo qua argentinosauro forse anche questo non l'avete visto questo qua è comune però lo sto cercando di portare al massimo mi piace proprio come grandezza come stazza quindi ci sta e anche questo qua questo è un dinosauro raro ok per ora a livello 20 però anche questo lo porterò poi al massimo perché mi piace anche lui vorrei avere qualche erbivoro raro oltre a questo qua che avete già visto che in realtà è comune quindi tricerato poi al 40 va bene ragazzi vi ringrazio come sempre per il vostro supporto i vostri like la serie vi piace sempre di più quindi ovviamente la andrò a continuare non ho abbandonato giurassic park builder quindi anche lui arriverà non vi preoccupate ragazzi e nulla come al solito tanti commenti tanti like e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao ciao Grazie a tutti.